Gentili telespettatori, buona giornata. Parla padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, e dice sulle ultime polemiche che dicono che Salvini stia strumentalizzando temi religiosi per fini elettorali. Il direttore di Radio Maria dice che tempo fa il capo della Lega ha ritrovato la fede, gli mando messaggi ogni mese. Sulla fede ritrovata di Salvini o non ritrovata il fatto è questo, essendo una persona pubblica, una persona sotto i riflettori, se Matteo Salvini va a Fatima o non va a Fatima i giornalisti lo seguono, qualsiasi cosa fa una persona pubblica poi soprattutto in vista come Matteo Salvini va sui giornali, va nelle televisioni, pertanto Salvini o anche altre persone in vista non possono nascondere alcune cose perché tutto viene spiattellato, nel senso che Salvini da persona normale che va a Fatima ad accendere un cero, visto che passa lì vicino e scatena delle polemiche, ma in realtà non ci vedo nulla di strano che Matteo Salvini vada a Fatima o da altre parti ad accendere una candela. Quanti di noi hanno nella loro vita sono andati ad accendere una candela in chiesa per qualcosa? Pertanto io non ci vedo nulla di strano e non ci vedo nessuna strumentalizzazione, è una persona che va in chiesa, va nei luoghi religiosi, solo che l'agone politico cerca sul centro-destra di trovare un appiglio per criticare qualsiasi cosa. Dice Matteo Salvini, per far conoscere i referendum sulla giustizia mi appoggerò a Radio Radicale ma anche a Radio Maria. Risponde a distanza padre Livio Fanzaga, direttore dell'emittente Mariana. Dice di questo referendum non so nulla, non ho competenze particolari per parlarne. È diverso e se al Dominus di Radio Maria, nata nel 1982, sei milioni di ascoltatori al giorno, un totem per i cattolici tradizionali, ricezione perfetta in tutto il territorio nazionale e si sente anche in tutto il mondo, poniamo una serie di domande, un giornale chiede via mail qualcosa su Salvini. Padre Pio, padre Livio, non padre Pio, racconta tempo fa ho letto che ha ritrovato la fede anche grazie alla Madonna di Meggiugori. Ovviamente questo mi ha interessato al di là della politica, a quel punto sembra essere scoccata la scintilla. Gli faccio avere ogni mese, come ad altre personalità, i messaggi della regina della pace. I due hanno una scorrispondenza fissa, o almeno non viene così svelata. Dice non ho mai avuto il piacere di vederlo dal vivo e neppure di parlargli, sia pure via telefono. In futuro chissà. Di certo dal capo della Lega, il capo spirituale di Radio Maria, apprezza il fatto che non nasconda la sua fede e la sua devozione mariana, come invece non di rado succede nel mondo della politica. Eppure, fatta questa precisazione, padre Livio preferisce tenersi a distanza dalla politica. Dice Radio Maria è estranea ai fatti della politica italiana nel senso partitico del termine. A noi interessano le anime da salvare e non i voti alle urne. E se Salvini le chiedesse di essere ospitato a Radio Maria, chiede il giornalista del giornalone per la campagna referendaria in materia di giustizia, dice il vero referendum lo farà a suo tempo la regina della pace. E ancora dice, e qui sembra di sentire Salvini dice, il prossimo futuro sarà radicalmente diverso da quello che le elite mondiali immaginano e progettano. Non lo so cosa significa quest'ultima frase. Come dicevamo, le polemiche sono continuate sul recente pellegrinaggio a Fatima. L'ostensione pubblica della sua fede è cominciata il 24 di febbraio del 2018, a pochi giorni dalle elezioni che più tardi gli diedero il governo e il Viminale. Chiuse la campagna elettorale in piazza Duomo a Milano estraendo un rosario e giurando di servire il mio popolo con està e coraggio. Dice, giuro di applicare davvero la Costituzione italiana e giuro di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo. Io lo giuro, giurate insieme a me, chiedeva Salvini il 24 febbraio 2018. Poco prima aveva ricordato con Benedetto Croce perché non possiamo non dirci cristiani. L'arcivescovo poi di Milano, Mario Delpini, non sembrò poi apprezzare e chiese che nei comizi si parli solo di politica e non di religione. Quindi ai tempi ci fu una parte della Chiesa che criticò Matteo Salvini, una parte invece della Chiesa che apprezzò. Naturalmente la parte che criticò Salvini era ovviamente una presa di posizione assolutamente politica, anche su giornali di stampo proprio cristiano. Erano contro Matteo Salvini, non so se vi ricordate alcune copertine di famiglia cristiana di quel tempo. Ad esempio Mario Adinolfi, leader del popolo della famiglia, consigliò a Salvini prima di giurare sul Vangelo, di leggerlo, dicendo scherzi con il Vangelo e il rosario non sono l'ampolla delle sorgenti del Po, gli disse. Insomma, poi il rosario apparve nelle mani di Salvini anche il primo giugno del 2018, al Quirinale in occasione del giuramento del governo Conte, poi nel luglio 2018, a Pontida. Insomma, Salvini ha esibito il rosario chiamando i presenti fratelli e sorelle, no? E così si fa anche nel maggio 2019. Ci furono poi, come vi dicevo, tante proteste, tante... Ma è così, il capo della Lega ha sempre portato e ha sempre attirato amore e odio. Questo è parte dei grandi personaggi politici della storia italiana. Provocano questi sentimenti di amore e di odio, che poi sono su due sentimenti molto simili, hanno delle reazioni molto simili, molto similare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.